Noi abbiamo ampiamente in questa trasmissione parlato di cospito, di quello che sta accadendo, del caso cospito Donzelli del Mastro, le chiedo un telegramma se possibile su quello che è accaduto in aula, in Parlamento, alla Camera con le parole di Donzelli e quegli atti che se non secretati certamente erano sensibili, uso le parole di Nordio. Cosa è accaduto lì? E poi le chiedo di cospito. Ma vede, io penso che dobbiamo imparare una lezione da quello che è avvenuto. Le questioni così delicate come quelle relative alla lotta alla mafia, relative alla detenzione di un detenuto sospettato di essere un coordinatore di attività di carattere terroristico, con sentenza passata e giudicato, non all'ergastolo ma con sentenza passata e giudicato, vanno gestite senza farle diventare un elemento di dibattito e di scontro politico. Perché vede, quando c'è un detenuto al 41 bis, il sciopero della fame e quindi si rischia una vita, l'unica cosa che non si può fare è farla diventare un elemento di confronto drammatico tra forze politiche. Loro dicono l'ha fatta diventare questo il Partito Democratico quando si è mosso con una delegazione di quattro persone per andare nel momento in cui faceva lo sciopero che era fatto. Adesso non è il problema, l'importante non è sapere chi l'ha fatto per primo, il problema è comprendere che anche se qualcuno l'ha fatto per primo, tocca ad altri spegnere immediatamente l'incendio, non incendiare ancora di più. Cioè se fosse vero che c'è una responsabilità ma per lei c'è una responsabilità del PD. Perché vede, il legislatore ha voluto che su queste cose decidesse il Ministro della Giustizia, sentita la magistratura, che naturalmente in questo Paese è terza e di cui tutti abbiamo fiducia, appunto perché non può essere... E il Ministro ha deciso la revoca, cioè ha deciso che conferma il 41 bis che rifiuta di revocare quel regime a Cospito. L'ha fatto sentendo i magistrati. Sì, lo ha fatto sentendo i magistrati anche se ci sono tre pareri di cui uno, almeno quello dell'antimafia, che sarebbe quella più titolata, un po' dubbio. Le posso dire una cosa, però si è assunto la sua responsabilità. Ma la domanda è, se poi Cospito peggiora e a questo punto non gli viene revocato, adesso ci sarà la sentenza della Corte Costituzionale, ma se non gli viene revocato il 41 bis e lui continua al sciopero della fame e muore, cosa succede in questo Paese? Ma per questo è una cosa molto delicata, perché vede, non si può mettere lo Stato dentro una scelta drammatica. Appunto, o cedi o ti assumi la responsabilità di una morte, capisce qual è il tema delicatissimo da questo punto di vista, glielo dice uno che è convinto, per esempio, che il 41 bis sia uno strumento importante di rotta contro le mafie e contro il terrorismo. Io non sono convinto dell'idea che bisogna cambiarlo. E penso anche che bisogna fare di tutto. Lei lo sa che il Ministro Nordio era tra i primi sostenitori del fatto che andasse cambiato. Ed è toccato a lui ritrovarsi in questa situazione. Succede, a volte succede. Ecco, però le volevo dire questo. Contemporaneamente io penso che lo Stato, una grande democrazia, debba fare di tutto per salvare la vita di cospito. E lo si fa. E come si fa? No, ma mi consenta di dirlo. Se non lo si fa, diventare un elemento, tra virgolette, di tensione politica. Aggiungo, io personalmente, se fossi stato il Ministro della Giustizia, avrei traspedito ad Opera, cospito, un mese fa, quando aveva incominciato lo sciopero della fame. Perché Opera è un carcere in cui si può gestire il 41% più attrezzato per le condizioni umanità. Minniti, la devo salutare. Intanto sta parlando Nordio. Apritemelo solo un attimo. Credo che l'occasione, Alessio aiutami a ricordare, l'inaugurazione dell'anno giudiziario organizzato dalle Camere di Ferrara, credo. Abbiamo anche già delle dichiarazioni, ma sentiamo. Abbiamo una serie di limitazioni dovute alla situazione politica e anche alla eterogeneità e alla debolezza della coalizione che la sosteneva. Il nostro è un governo solido, la maggioranza è compatta, si profila una durata della legislazione fisiologica e quindi penso che queste riforme potranno essere attuate ovviamente nei tempi che sono... Allora, usciamo per questioni di tempo, dopodiché è un messaggio registrato che è stato inviato alle Camere, che stanno trasmettendo adesso da quello che capisco. Alessio, cos'è che ha detto? Devi essere velocissimo. Cospito non è malato, ma si è procurato salute precaria, il suo sciopero della fame non è più non violento ed è immutata la sua capacità di condizionare gli anarchici all'esterno. Queste le ragioni della sua decisione per cui ha scelto di lasciarlo al 41bis e rimane però la questione, se poi Cospito continua lo sciopero della fame fino alla morte, che succede? Sì, bisogna, appunto, perché bisogna evitare che diventi un martire. Eh. Ecco, per questo era importante ed è importante come tutto viene gestito. Perché, vede, mi è capitato qualche tempo fa di dover commentare una questione. questione. C'era qualcuno che voleva mettere insieme Cospito con la Shoah. Non c'è cosa di più drammatico che si possa fare. Lo dico, fermiamoci un attimo, riflettiamoci un secondo. Perché stabilire l'equazione Cospito è una vittima, come sono state le vittime della Shoah, è un drammatico errore. Capisce che voglio dire. Perché questo trasmette immediatamente l'idea che Cospito è un perseguitato ed un martire. Sinceramente non è né l'uno né l'altro. Anche se io mi batto perché lui possa continuare la sua vita. Con la schiettezza che lo contraddistingue. Lei ha capito perché da Cospito a Sassari, quando era in prigione a Sassari, è andata una delegazione del Partito Democratico composta da quattro parlamentari, tra cui un ex ministro della giustizia, la Serracchiani che ha un ruolo di primo piano, Verini che ha un ruolo di primo piano nel partito e poi il parlamentare locale Lai. Perché? Lei l'ha capito? Non ho rapporti tali per farmelo spiegare e quindi non l'ho capito. Detto questo, se vuole sapere, sinceramente la mia opinione, io non ci sarei andato. Il che non significa non essere sensibili al tema umanitario. Insisto, nel momento in cui tu trasmetti un messaggio che Cospito, in qualche modo, possa apparire come uno perseguitato oltre la giustizia, trammessi un messaggio sbagliato. Per una ragione semplicissima, perché Cospito è una sentenza passata e giudicato, ma soprattutto ha fatto atti particolarmente gravi contro delle persone, anche non uccidendole, ma ha fatto atti particolarmente gravi. E se mi si consente una cosa, il garantismo è finisco, il garantismo va di pari passo con la non violenza. Non si può essere garantisti e insieme violenti. È una contraddizione in termini. Grazie, grazie Minniti. Sento che le ultime parole di Minniti diventeranno oggetto di dibattito. Ricordo che i deputati del Partito Democratico hanno più volte ripetuto che siamo andati lì perché nel sciapero della fame volevamo controllare il suo stato di salute. Pubblicità, qualche minuto e torniamo.